E' stato veramente un piacere. Ma speriamo. Alla prossima. Alla prossima. Siamo Stati Uniti. Grazie. Grazie a te. Grazie. Ma possiamo rifare perché ragazzi sono dimenticato di mettere il nastro. Io ho parlato per mezz'ora senza nastro. Cosa stai dicendo? Per mezz'ora non c'era il nastro, non te ne accorgi. Le domande erano scadenti. Rifacciamo allora. Ma che rifacciamo? Ma io devo andare via. E come facciamo? Ma io devo andare via. La sirena.